A proposito di grandi donne e scienza, allora partiamo era il 2018 e tra le 100 persone più influenti del mondo il Time metteva, devo leggerli perché sono parecchi, allora Emanuele Macron, Elon Musk, Roger Federer, Jeff Bezos, Oprah Winfrey, Hugh Jackman, Donald Trump, Justin Trudeau, Nicole Kidman e Xi Jinping che vedete, ebbene tra questi nella sezione pionieri c'era la nostra prossima ospite che è Marika Branchesi, buongiorno e benvenuta! Buongiorno! Ciao Marika, allora oggi facciamo un po' lezioni astronomia e astrofisica per dummies, diciamo per i negati, eccomi, ok? E lo facciamo da remoto, allora partiamo con ordine, 2015 tu sei tra le prime a rilevare le onde gravitazionali, corretto? Sì, faccio parte del gruppo che ha rivelato le onde gravitazionali a Terra per la prima volta, esattamente 100 anni dopo che Einstein le ha predette, aprendo proprio una nuova astronomia perché le utilizziamo per vedere quello che prima era impossibile vedere con la luce. Ecco, allora, aspetta, aspetta Marika perché devi capire, dicevo, astrofisica e astronomia per dummies, quindi per gente come me, partiamo dalle basi, che cosa sono le onde gravitazionali? Dunque, le onde gravitazionali sono delle increspature dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce e quando abbiamo due oggetti massicci, due oggetti celesti, come sono buchi neri o serie di neutroni che si fondono, queste increspature si propagano nell'universo e riusciamo a rivelarle, come un po' quando uno lancia un sassolino in uno stagno e ci sono delle onde che si propagano. Quindi, diciamo, l'eco, chiamiamolo così volgarmente, potrebbe essere associato a un concetto come l'eco? Viene anche associato al suono perché, appunto, nelle frequenze dell'onda sonora, quindi quando sono state osservate per la prima volta, si è detto, oltre a vedere con la luce, ora siamo in grado anche di ascoltare. Ecco, senti, allora, devo leggere la didascalia perché è lunghissima. Tu sei ricercatrice del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, presidente della Commissione Astrofisica delle Onde Gravitazionali dell'International Astronomical Union e membro della Commissione Internazionale sulle Onde Gravitazionali. Quindi non diamo per scontato e anzi ti ringraziamo perché il fatto che tu sia lì oggi, in questo momento nel nostro paese, non è da poco, insomma. Il 16 ottobre del 2017 a Washington hai avuto l'onore di rivelare al mondo un'altra scoperta fatta dal tuo team. Dunque, questo è stato un team enorme di 3500 scienziati e queste sono veramente scoperte di persone, di scienziati di tutto il mondo, quindi non di una persona ma di team enormi. Io ho avuto il piacere e l'onore di raccontare la fusione di due stelle di neutroni che abbiamo osservato il 17 agosto 2017 e quello che è successo è che abbiamo visto la fase finale di questa danza delle due stelle di neutroni una attorno all'altra, la fusione. E dopo aver visto la fusione abbiamo rilevato l'onda gravitazionale, ma non solo l'onda gravitazionale, ma anche tutti i colori della luce. È stato osservato un oggetto che prima era blu e in dieci giorni è diventato rosso e poi lì abbiamo osservato anche la luce nel radio ad alta energia. La galassia, dove questo oggetto si chiama NGC 4993 è diventata famosissima e tuttora ci sono delle osservazioni là. Io coordinavo al tempo il gruppo che ha mandato l'allerta a tutti i telescopi e tutti i satelliti e i telescopi che sono a terra hanno puntato questa galassia. Adesso qua si vede l'immagine che per me è sempre molto emozionante, sono immagini prese in quei giorni. L'ombra blu è la regione dell'onda gravitazionale, si arriva a questa galassia e lì si vede questo oggetto che prima non c'era, questo oggetto appunto blu che diventa rosso e una delle tante scoperte legata a questa variazione di colore perché questa variazione di colore ci spiega come si formano gli oggetti pesanti nell'universo, che era un grande enigma, non si sapeva da dove venivano gli elementi pesanti, tra cui l'oro e la stima è che in quella fusione si sono formati intorno alle 100 terre di oro che sono andate nel mezzo interstellare e da lì poi si formano pianeti, stelle, stelle e pianeti. Ma che meraviglia! Posso dire che è ancora più bello Marica sentirti raccontare di queste scoperte perché anche tu un po' come Mario Tozzi ti si illuminano gli occhi quando parli della tua materia ed è secondo me la maniera più bella e più interessante per fare divulgazione. Quindi intanto ti ringrazio personalmente. Senti, sei stata proprio tu tra l'altro a raccogliere questa cosa da terra, no? Cosa è successo? Hai visto un lampo? Come te ne sei accorta? Sentivi che c'era qualcosa che stava succedendo? No, in realtà è un lavoro che è stato preparato in tantissimi anni e mi è arrivata un'allerta nel telefonino perché abbiamo questi sistemi di data analisi veramente molto veloci che cercano di identificare le onde gravitazionali, ci allertano nel telefonino e lì ci sono delle teleconferenze, quindi un lavoro in remoto e a quel punto si cerca di capire se il segnale è corretto e poi si lancia l'allerta ai telescopi, ai telescopi classici. No Marica, sto sorridendo perché adesso tu stai parlando di lavoro in remoto su cose, capito, enormi, cioè robe che cambiano i destini della Terra. Noi nel nostro piccolo oggi stiamo conducendo il chili mangiare in remoto e quindi sorridevo per questo. Senti, dopo questa scoperta la rivista Nature ti ha messo al secondo posto di quell'anno tra, era questo il titolo, 10 people who matter this year, ovvero le 10 persone che contano e che hanno contato e che hanno fatto la differenza quest'anno e l'anno dopo, come se non bastasse, ti sei guadagnata in red carpet. E' vero? Eccola, guarda che bella! Ma a parte la soddisfazione, anche diciamolo, la bellezza, insomma, la gratificazione di essere riconosciuta in red carpet, questa esposizione, che cosa ti ha portato, che cosa ti ha dato questa esposizione mediatica? Mi ha dato, secondo me, una grandissima opportunità, che è quella anche di essere qui oggi, di poter raccontare la bellezza della scienza, di poter raccontare a tante ragazze che lavorando sodo, puntando in alto, si possono realizzare i sogni, perché per me questa scoperta è stata un sogno. E assolutamente, e mi sembra che in questo momento sia molto chiaro quanto sia importante la ricerca in tutti i campi. Settimarica, mi hanno detto che hai scritto la definizione di una parola per il dizionario, è corretto? Sì, per il dizionario Zanichelli, quest'anno. Ah, però, di che parola si tratta? Stella. Ma meraviglioso! Quindi adesso, sai che tra poco avremo anche Antonelli, quindi la possiamo aggiungere, diciamo, alle parole che tratterà lui. Mi dai una definizione veloce di Stella? Ma io avevo dato una definizione che è questa, è una sfera celeste di plasma, quindi di gas estremamente caldo, ma la cosa più importante, le stelle sono una popolazione, ci sono stelle vecchie, stelle giovani, stelle grandi, stelle piccole, ci narrano l'universo sia nello spazio che nel tempo, sono le incubatrici degli elementi che producano la vita, e quindi è vero che noi siamo polvere di stelle. Marika, io ti ringrazio moltissimo per essere stata con noi in questa puntata dedicata alle donne, alle donne e la scienza, alle donne e ricerca, davvero grazie, in bocca al lupo e soprattutto buon lavoro. Grazie ancora a Marika Branchesi, noi grazie ancora Marika, davvero. Grazie.